Prosegue la conta dei danni del maltempo. Anche nella parte alta di Clusone e a San Lucio sono caduti una decina di alberi, di cui alcuni nati con il roccolo 150 anni fa. Il sindaco di Vertova dona la sua indennità alle popolazioni colpite dall'alluvione in Emilia Romagna. Spero che altri possano ripercorrere questa strada. Sabato a Clusone si svolgerà la prima edizione di Clusone Dipinta, evento organizzato dalla Turismo Pro Clusone. Ci sarà un nuovo contesto artistico ed è confermata la presenza dei madonnari. Buonasera a tutti i telespettatori, bentornati ad un nuovo appuntamento con le notizie di Antenna 2. Apriamo dalla cronaca. Due persone sono state soccorse sui monti della Val di Scalve nel pomeriggio. In entrambi i casi è intervenuto l'elisoccorso. La prima chiamata è partita intorno alle 13 nel territorio di Colere. Una persona si è sentita male nella zona del rifugio Albani. Da Sondrio è decollato l'elicottero di Areu. L'intervento si è concluso con il trasporto all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo in codice verde. Una seconda richiesta di soccorso è arrivata poco dopo le 14 in territorio di Schilpario. Una donna di 73 anni è caduta nella zona del rifugio Tagliaferri. È arrivato anche l'elicottero da Bergamo e la donna è stata recuperata e trasportata in codice giallo all'ospedale di Piario. In entrambi i casi sono state allertate anche le squadre del soccorso alpino di Schilpario. Voltiamo pagina. La conta dei danni del maltempo prosegue. Anche nella parte alta di Clusone a San Lucio sono caduti una decina di alberi. Sentiamo Elisa Cucchi. Giannino Trussardi. È il momento della conta dei danni anche qui in Alta Valle Seriana, anche qui a Clusone sotto i monti di San Lucio. Sono una decina agli alberi caduti e uno ha rischiato davvero di abbattere anche il roccolo. Mi ha mandato un messaggio un amico che è sceso alle 7 di mattina, di ieri mattina, dicendomi guarda che sono caduti quattro alberi e vai su a vedere. E così almeno controlli perché io sono passato solo nella parte bassa. Difatti quando poi parto in macchina dalla rotonda di rovetta, guardo su, ho visto un pezzo di rocco che non si è mai visto. E quindi lì ho cominciato a tremare. Qui mi sa che è andato, ma speriamo che non sia andato quello più grosso, che si trova un pochino più in alto. Invece purtroppo comunque è caduto questo. E mi spiace un casino, ma soprattutto mi spiace per l'albero, perché io ci tengo. E in più era la dimora del picchio nero, che ci tornava tutti gli anni, da 20 anni a questa parte. e quindi anche lui è rimasto senza casa. Spiace, spiace perché tanto sarà il lavoro per la pulizia. Però d'altra parte è un problema naturale che magari da adesso in avanti potremmo aspettarci anche di peggio. La fortuna è che queste radici così provonti di questo albero, che insomma era davvero di grandi dimensioni, non ha messo a repentaglio le fondamenta di questo roccolo storico. Sì, la preoccupazione era anche quella. Infatti poi ho avvisato un amico di mio figlio, che ha un'impresa edile, e ha corso su per capire. Invece sembra che non abbia intaccato niente. È solo la legnaia che, essendosi abbassato il terreno, sarà tutta da rifare. L'altro più grosso qui sopra ha picchiato nel tetto, però vabbè, ha solo sfondato un po' il canale e la gronda, e quindi ci siamo salvati. Nel tuo territorio, nel tuo terreno, qui sono tre gli alberi caduti, e la cosa davvero, se possiamo dire, curiosa, ma che fa pensare è che le tue sculture non sono state toccate da questi alberi. Infatti è vero. L'altra mattina piangevo. Adesso, guardando esattamente cosa è successo, e tutti gli alberi che sono caduti hanno evitato per pochi centimetri i lavori, mi viene quasi da ridere. Nel senso, come dicevi tu prima, che può essere un avviso, non so, forse per continuare. Adesso il problema è appunto di sistemare il tutto, perché veramente tra rami e alberi piccoli giù è un po' un macello. L'importante è che Giannino non perda la sua voglia di lavorare e di rendere ancora più speciale questo bosco di San Lucio, che è meta di tanti turisti. Sì, al momento veramente ti scappa la voglia, come quando ti fanno qualche guaio, però poi probabilmente il bosco mi sta aiutando e mi consiglia di continuare. L'ho detto all'inizio, mi spiace veramente per questi esseri viventi che purtroppo non ci sono più. Questo avrà 150 anni, perché all'età del roccolo sono stati messi per questa uccellagione. E così, mi spiace veramente. Vedere questo vuoto adesso tutte le volte che guardo fa male al cuore. Ci spostiamo ora a Piario, all'ex lavanderia dell'ospedale. Continuano i lavori per realizzare il nuovo centro per i disturbi del comportamento alimentare. Un sopralluogo del consigliere regionale Michele Schiavi ha permesso di capire a che punto ha il cantiere nel servizio di Nicola Andreoletti. Il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Michele Schiavi, ha svolto nei giorni scorsi un sopralluogo al cantiere per la realizzazione del centro per i disturbi del comportamento alimentare nell'ex lavanderia dell'ospedale di Piario. Perché questo sopralluogo e che cosa è emerso? Sì, il sopralluogo si è reso necessario dopo una discussione sul tema in consigliere giornale dopo una lettera di alcuni sindaci del territorio che denunciavano uno stato di ritardo dei lavori presso il centro per i disturbi del comportamento alimentare che verrà realizzato all'interno che anzi è in corso di realizzazione all'interno dell'ex lavanderia dell'ospedale di Piario. Insieme all'azienda SST Bergamo Est che è la responsabile del cantiere e alla loro direzione strategica che ringrazio ho effettuato la scorsa settimana il sopralluogo presso i cantieri del futuro centro per i disturbi del comportamento alimentare che prevede la realizzazione di 10 posti letto in regime residenziale. Questo centro infatti prenderà in carico i pazienti dopo la fase acuta e ospedaliera per incentivare anche un ritorno alla vita quotidiana alla vita normale e sociale dei pazienti stessi. Ci saranno due posti dei ospita l'ambulatori specialistici per la presa in carico e la cura dei pazienti e gli spazi comuni sia al primo che al secondo piano. Questi lavori per un totale inizialmente di 1.300.000 euro poi aumentato di altri 300-400.000 euro erano stati finanziati con una delibera regionale del 2018 poi a causa del Covid-19 ma soprattutto di alcune modifiche progettuali richieste dalla soprintendenza e del ritrovamento di alcune aree che dovevano essere materiali in certe aree che doveva essere bonificato perché era materiale come amianto oppure altro tipo di materiale che aveva bisogno appunto di una bonifica particolare questo cantiere ha subito dei ritardi importanti ritardi che purtroppo hanno rallentato anche l'inaugurazione e soprattutto l'inizio del servizio di un servizio fondamentale sul nostro territorio. Questo centro sarà un centro di eccellenza per tutta la provincia di Bergamo un punto di riferimento per i disturbi del comportamento alimentare che come sappiamo e come moltissimi studi dimostrano soprattutto dopo la fase della pandemia della Covid-19 sono aumentati sensibilmente all'interno delle famiglie. Durante il soprallogo l'azienda ci ha dato due informazioni molto importanti la prima è che si prevede la conclusione dei lavori entro la fine del mese di settembre del 2023 siamo già infatti alla parte delle finiture del cantiere poi c'è tutta la parte degli arredi da concludere appunto nel mese di settembre con l'inizio e l'attivazione del servizio entro la fine dell'anno e l'altra buona notizia appunto è che l'azienda ha già iniziato il reclutamento del personale è già stato individuato il medico responsabile del centro che è un medico che ha una grande esperienza sia sul nostro territorio ma non solo, proprio sul tema dei disturbi del comportamento alimentare quindi veramente c'è la prospettiva che questo centro diventi di eccellenza e poi si sta formando e selezionando tutto il personale anche in collaborazione con l'Università degli Studi di Bergamo Passiamo ora a Vertova l'emergenza in Emilia-Romagna non è ancora terminata e c'è chi tra gli amministratori comunali ha deciso di donare alle popolazioni colpite la propria indennità è successo appunto a Vertova con il sindaco Gualdi spero che altri possano percorrere questa strada sentiamo Siamo con il sindaco di Vertova Orlando Gualdi abbiamo trovato sull'albo pretorio comunale una determina in cui in pratica devolve l'inunità di carica a favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dall'alluvione innanzitutto le motivazioni che l'hanno spinto a questa scelta Allora, molto semplice le motivazioni è che quando è successo il fatto io ero a casa perché ero bloccato con la schiena e ci sono rimasto per parecchi giorni e quindi ho avuto modo di seguire tutta la vicenda in televisione perché in tutti i canali si parlava solo di quello e non potendo fare altro ho pensato di dare questa indennità di carica del mese di giugno a favore della popolazione Un percorso semplice? Vi siete contattati, confrontati con la regione? Il percorso è stato semplice nel senso che io sono venuto in comune ho chiesto alla ragioneria come potevo fare la ragioneria si è messa in contatto con la regione Emilia-Romagna si è messa in contatto con l'assessore e dopodiché gli ha spiegato la cosa e noi abbiamo fatto una determina che è stata pubblicata sull'albero pretorio e so benissimo come ripeto che queste cose di solito si fanno nel più completo anonimato ma in questo caso dovendo fare la determina essendo pubblica la determina ho anche pensato a un'altra cosa che probabilmente qualora la cosa fosse divenuta di dominio pubblico qualche altro mio collega avrebbe potuto anche lui seguire la mia strada sono gocce nel mare che però mi sembra giusto essere solidali Questo è un appello anche ai colleghi a comportarsi un po' come ha fatto lei visto che anche la situazione in Emilia-Romagna ha ancora dei problemi Sì, non è un appello perché ognuno fa quello che crede a me è sembrato giusto così se poi qualcuno vuole seguire il mio esempio ben venga, invece di una goccia saranno due, tre, cinque di conseguenza però l'ho ritenuto come ripeto una cosa giusta anche perché a me non cambia la vita e se qualora ci fossero diversi colleghi che decidono di devolvere anche loro la loro indennità per un mese di indennità magari tante gocce fanno bicchiere Appuntamento alle porte a Clusone sabato 29 luglio dove si svolgerà la prima edizione di Clusone Dipinta evento organizzato dalla Turismo Pro Clusone con il sostegno e patrocinio dell'amministrazione comunale Oltre ai madonnari già presenti la scorsa estate la novità di quest'anno è il contesto artistico diretto dall'artista clusonese Mario Giudici un'estemporanea di pittura a tema libero Sentiamo Clusone per il suo lascito che si può ancora oggi vedere su tanti palazzi è stata spesso definita città dipinta e sabato a Clusone ci sarà un evento che si chiama Clusone Dipinta quindi l'arte torna protagonista tra queste vie e in queste piazze Esatto hai proprio indovinato il nome di questo evento nasce proprio da lì Clusone Città Dipinta perché chi passa per Clusone non può che soffermarsi e guardare innanzitutto qua alle nostre spalle c'è il palazzo comunale che probabilmente è il fiore all'occhiello insieme alla fresco più importante che la danza macabra abbiamo appunto pensato di omaggiare ulteriormente il nostro paese facendo un evento ad hoc un evento che era già stato in realtà proposto qualche anno fa insieme a un'estemporanea di pittura allora erano quelli del comitato La Rocca e difatti si sono sorpresi che è tornato questo evento e ci fa piacere seguendo l'impronta dei madonnari dello scorso anno che erano quattro madonnari quest'anno ne riportiamo sei non saranno in concorso perché la vera sorpresa di quest'anno è l'estemporanea con diversi artisti per ora siamo circa 10-15 artisti che saranno intorno per il paese con una giuria di alto livello questo ci piace dirlo perché comunque assieme a noi Mario Giudici si sta dando molto da fare l'artista di Clusone e abbiamo cercato personaggi soprattutto locali per fare la giuria mentre parteciperanno anche personaggi da fuori e questo ci fa piacere la giornata inizierà come gli eventi clou di quest'estate con i mercatini dalle 10 alle 19 l'estemporanea inizieranno le iscrizioni intorno alle 9.30 e proseguiranno fino alle 15-17.30 poi ci sarà la premiazione per i migliori tre la serata poi si concluderà qui in Piazza Orologio dove ci sarà l'apertura delle cucine con pane strinù bivite e birra alla spina e alle 20.30 musica revival con Massimo Shaw questo è un evento che ci auguriamo possa diventare una tradizione proprio per tornare a quello che è stato detto all'inizio di questo servizio perché dobbiamo puntare soprattutto alle bellezze che abbiamo sul territorio e riuscire a fare una sorta di percorso che inizi dal basso del paese e porti poi a queste bellezze vere e proprie ci saranno poi altri eventi agosto si ripeterà la serata di ballo che non siamo riusciti a fare per maltempo l'uno di agosto arriveranno gli artisti di strada il 12 agosto tardo pomeriggio fino a sera sempre accompagnati dai mercatini per tutta la giornata e poi la giornata conclusiva della nostra estate è il 19 agosto con il palo della cuccagna ci saranno poi i burattini e come sempre i mercatini e la cucina in Piazza Orologio parliamo ora di fotografia anno dopo anno sta diventando sempre più una delle iniziative culturali più prestigiose per la città di Albino sono aperte le iscrizioni per il concorso fotografico città del Moroni ben otto le categorie in programma tra le novità le foto legate ai droni e ai viaggi sono aperte quindi le iscrizioni al vostro appuntamento club possiamo dire stagionale di cosa si tratta? si sono aperte si sono aperte ufficialmente le iscrizioni per il sesto concorso nazionale città del Moroni Albino è possibile quindi consegnare le fotografie e iniziare diciamo così quest'iter che ci porterà verso la fine del mese di settembre a tra virgolette eleggere il vincitore del nostro concorso abbiamo detto appunto che è possibile consegnare le opere che alla fine della consegna ci sarà una mostra che durerà per un mese nell'atrio comunale di Albino e al termine di questa mostra verrà realizzata la premiazione verranno proiettate tutte le immagini e chiaramente si procederà a leggere il vincitore e i vincitori perché le categorie quest'anno sono diventate 8 abbiamo inserito delle nuove categorie tra cui molto interessante quella della fotografia legata al tema dei droni quindi realizzate con appunto i droni e anche il tema legato al travel quindi la fotografia di viaggio e la fotografia di ricordo dei viaggi ospiti e iscritti da tutta Italia anche da fuori si ospiti ormai oltre che nazionale il concorso è diventato anche internazionale nelle precedenti edizioni abbiamo avuto anche partecipanti che provenivano da Parigi e da altre parti del mondo chiaramente la nostra il nostro bacino d'utenza rimane molto quello lombardo ma arrivano iscritti ormai da tutta Italia quindi dal Lazio e anche l'anno scorso ad esempio il vincitore proveniva dal Veneto e quindi ormai possiamo dire che il concorso oltre che nazionale punta a diventare anche internazionale cosa bisogna fare per iscriversi? beh iscriversi è molto facile abbiamo due metodi si selezionano quattro fotografie vengono stampate nei formati richiesti e vengono consegnate in uno dei due punti abbiamo anche attivato una convenzione di stampa con Cassina Fine Art che permette telefonicamente quindi rimanendo tranquillamente al proprio domicilio di inviare le fotografie si procede alla stampa e alla consegna immediata quindi anche da qualsiasi parte ci si possa trovare anche in vacanza basta inviare le immagini e vengono consegnate direttamente alla segreteria del nostro concorso quindi perché è importante la sua partecipazione perché è importante stampare uno degli obiettivi è di mantenere viva questa tradizione tra virgolette sì allora sicuramente la differenza rispetto ad altri concorsi che è una filosofia che ho condiviso è quella di non consegnare solamente il file digitale in un mondo che ormai è inquinato da tonnellate tonnellate di giga di immagini ma è quella di consegnare un prodotto fisico stampato che è una riprova tangibile del lavoro svolto quindi perché è importante la stampa oggi e cosa vuol dire appartenere a un circolo fotografico perché è importante avere un circolo la stampa resta comunque importante oggi nel 2023 perché comunque è una controprova del lavoro fatto rispetto alla visualizzazione su uno schermo che per chi è nel settore sa che ogni schermo è diverso può essere diverso e quindi la visualizzazione può essere diversa la stampa è una una prova definitiva di quello che si è fatto e si è svolto e anche nel 2023 comunque è molto importante perché la stampa è uno degli cioè è l'unico metodo che si ha come conservazione in maniera sicura del del proprio lavoro e del proprio archivio il circolo quindi perché è importante appartenere a un circolo con quegli obiettivi di un circolo allora appartenere ad un circolo sicuramente è molto importante perché oltre che la condivisione della passione per la fotografia si ha anche la possibilità di imparare da chi ha più esperienze di te e continuare a a svolgere la propria passione in compagnia manca poco più di una settimana al ritorno di Ardesio Divino la mostra mercato enogastronomica pronta a tornare nel centro di Ardesio costellata anche da una serie di eventi collaterali per chi fosse interessato è giunto il momento di prenotare ci avviciniamo alla diciannovesima edizione di Ardesio Divino 5 e 6 agosto e anche quest'anno ci sono diversi appuntamenti su prenotazione e quindi chi volesse partecipare è invitato a farsi avanti esatto sono molti gli eventi che abbiamo pensato di organizzare per il nostro pubblico partiamo il venerdì 4 agosto nel ristorante da Giorgio alle ore 21 con l'annuale cena divina quest'anno il tema è legato a Bergamo Brescia capitale della cultura e ha un costo di 65 euro continuiamo poi con il sabato 5 agosto con la degustazione in collaborazione con il seminario Veronelli alle ore 17.30 presso la sala consigliare e la domenica allo stesso orario stesso luogo avremo la masterclass con Paolo Tegoni e il fotografo Francesco Zoppi dal tema le malvasie sul serio questi due eventi collaterali hanno un costo di 10 euro per chi acquista l'ingresso alla manifestazione di Ardesio Divino e invece o per chi invece non ha l'ingresso ha un costo di 30 euro durante i due giorni poi abbiamo organizzato tre percorsi itineranti la guida è sempre Paolo Tegoni che proporrà all'interno proprio dei nostri produttori di Ardesio Divino un sentiero alla scoperta proprio dei nostri produttori presenti i giorni della manifestazione passiamo ora alla pagina sportiva la scuola ciclismo Cene ha organizzato il classico appuntamento estivo per scalatori la cronoscalata Cene Altino riservata alla categoria allievi e juniores che hanno segnato anche i titoli lombardi della montagna ad aprire le danze la sfida tra gli allievi vinta dal campione veneto su strada Giacomo Rosato l'atleta trevigiano di Asolo 15enne portacolori della termopiave Valcavasia ha percorso i 5,6 km del tracciato in 18,47 dietro di lui si sono fermati il varesino Mattia Turconi della bustese Olonia secondo classificato a 22 secondi e il nuovo campione lombardo della montagna e terzo Pietro Galbusera del triangolo lariano con un ritardo di 31 secondi a seguire la sfida tra gli juniores una gara che si è chiusa con un giallo il campione italiano su strada Simone Gualdi della squadra di casa aveva fatto segnare il miglior tempo ma la giuria lo ha squalificato per aver tagliato il tracciato in una rotonda poco dopo la partenza così il successo è stato assegnato all'Igule Lorenzo Mark Finn classe 2006 della CPS Professional Team che ha preceduto di 3 secondi il piemontese Giulio Giraudo di 33 secondi il polacco Filip Gruczynski e di 34 secondi Leonardo Vesco del trim Fratelli Giorgi che proprio in virtù del quarto posto ha conquistato il titolo regionale lombardo della montagna e veniamo ora ai programmi su Antenna 2 alle 20 e 15 l'Alpino alle 20 e 25 Promoserio Eventi alle 20 e 30 Mai Regione alle 21 20.000 giri alle 21 e 40 la rubrica di sport Hard Track alle 22 e 30 la seconda edizione del TG alle 23 e 15 Antenna 2 Sport e a mezzanotte e 30 la terza edizione del TG di Antenna 2 l'Almanacco del giorno domani giovedì 27 luglio il sole sorge alle 5 e 52 e tramonta alle 21 e 02 la luna è al primo quarto sorge alle 15 e 58 e tramonta alle 1 e 03 del giorno successivo la chiesa ricorda San Pantaleone e con questo è tutto dopo il TG andrà in onda la rubrica un caffè con le psicologhe e le previsioni del tempo a tutti voi una buona serata grazie a tutti